ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di mito e misteri scp oggi parliamo del scp 1342 chiamato anche ai creatori di musica class dell'oggetto e grid questo è con lo scudo termico di basso rimosso scusate poi due speciali di contenimento scp 1342 deve essere immagazzinato nel sito 15 scp 1342 tattino 1 deve essere rinchiuso all'interno di una gabbia fara dei misurante 15 per 15 per 20 metri per prevenire la smissione di telemetrie e di altri dati riguardanti scp 1342 scp 1342 tattino 2 deve essere immagazzinato dentro un armadetto per componenti elettronici standard una copia decodificata di scp 1342 tattino 2 deve essere contenuta in un armadetto separato in più devono essere condotti dei monitoraggi di gliese 445 tramite radiotelescopi data l'improbabilità sul contenimento di scp 1342 tattino 3 in un prossimo futuro il progetto aimdall deve continuare con l'operazione del suo piano di contingenza descrizione scp 1342 tattino 1 è una replica del voyager 1 l'esatta replicazione della sonda si estende ai sensori e all'apparente composizione chimica tuttavia alcuni componenti sembrano essere stati costruiti basandosi su piani o parti incomplete come risultato parecchi componenti non erano funzionanti al momento del recupero scp 1342 tattino 1 venne inizialmente rinvenuto il 25.09.1982 mentre viaggiava velocità suborbitale ad approssimativamente 35.000 metri sopra la superficie terrestre gli agenti della fondazione recupereranno scp 1342 il 27.09.1982 dopo che scp 1342 tattino 1 effettuò un rientro atmosferico incontrollato e attaccato a 300 km ad est dell'isola bakher nell'oceano pacifico l'individuazione di scp 1342 tattino 1 è stata possibile grazie al rilascio massiccio di radiazione cherenkov che si è verificato dalla sua apparizione è tuttora sconosciuto come scp 1342 tattino 1 si è rimasto intatto durante la discesa nonostante sembri avere la stessa composizione chimica del voyager originale scp 1342 tattino 2 è una registrazione fonografica placata in oro simile al golden record trasportato dalle seconde sonde del voyager tuttavia la mappa pulsare è stata alterata per far mostrare la stella gliese 445 come all'origine di scp 1342 quando decodificato scp 1342 tattino 2 contiene una verità di dati culturali e scientifici sotto forma di immagini e di tracce audio sono presenti approssimativamente due ore di registrazione audio consistenti in varie forme di musica e di ronzia toni una parte della musica sembra essere un estratto della cavatina dal quartetto per archi numero 13 insieme bolle maggiore op 130 di beethoven le immagini decodificate variano ampliamente nel contenuto ma tutte contengono informazioni fisiche o chimiche sul soggetto è una silinga di personaggi pittografici un organismo rapidamente vabbè a posto siamo un organismo radialmente simmetrico è mostrato in diversi fasi del suo sviluppo completamente sviluppato l'organismo è alto approssimativamente due metri ha tre gambe e tre braccia allungate con ogni mano dotata di tre dita posizionate attorno ad un asse centale sostenuto da un addome vagamente cilindrico sulla testa sono presenti tre protrusioni simili a proboscidi ognuna terminante in un becco l'82% delle immagini decodificate mostrano SCP-1342-3 in una grande varietà di scenari culturali le scene identificate includono l'agricoltura, la manifattura l'affollamento urbano e la riproduzione di musica con uno strumento a corde e archetto sono incluse anche immagini di svariati corpi celesti come un pianeta di tipo venusiano con alta pressione atmosferica e una stella con lo spettro stellare corrispondente a quello di Gliese 445 uno dei pianeti visti a una superficie parzialmente simile alla Terra composta dal 60% di acqua allo stato liquido dal 4% di vita urbana e vegetale e dal 36% da un apparente deserto Olanda desolata il pianeta ha tempeste e cappe di ghiaccio più larghe di quello che ci aspettavamo dalle informazioni fornite da SCP-1342-2 e se ne stia subendo un collasso ecologico massiccio di fianco al pianeta è mostrata l'immagine di un'esemplare di SCP-1342-3 dall'immagine è stato visto che questo pianeta possiede grandi infrastrutture orbitali non limitate a strutture per veicoli spaziali operazioni di estrazione mineraria di esterodi catturati e ascensori spaziali attaccati alle zone urbane ed esolate tutte le immagini mostrano la struttura di uno stato distrutto o trascurato l'ultima immagine mostra una nave dirigesi verso una stazione spaziale di tipo Taurus estremamente danneggiata con un'apertura al centro dal diametro di 2 km e questa è la strada della SCP-1342 se il video vi è piaciuto come sempre il video asceglie un bel mi piace per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima